Per Settimana Sport siamo con Boris Stagnaro, allenatore del Casarza. Allora, Boris, direi un pareggio, forse che va bene a entrambe le squadre. Forse direi alla fine sta un pochettino stretto al Marola, però l'espulsione di Righetti penso che abbia condizionato la partita. Sì, alla fine è chiaro che una partita del genere rischia di perdere e di vincere, perché dopo 20 minuti rimani un quarto d'ora, non mi ricordo bene il tempo, poi siamo rimasti in 10, prima partita così, perché hanno dovuto modificare tutto, è stato un inseguimento continuo, quindi fatichi, fatichi. Diciamo che ce la siamo complicata da sola la vita, con l'espulsione soprattutto. Poi i ragazzi hanno dato tutto, non possono impoverargli niente, un po' più di fortuna, anche qualche scelta, magari un mezzo rigore, però alla fine il pari direi che è giusto, solo per l'impegno che hanno messo i miei, hanno lottato fino alla fine e diciamo che il pari ci sta. Direi due ottime squadre che sono in testa alla classifica, diciamo i tre punti mantengono inalterata la differenza, però direi che entrambe le squadre penso che meritano entrambe di salire fino a questo momento. Sì, perché comunque anche loro sono una bella squadra, giocano a calcio, si vede, lo sapevamo che era una squadra di questo tipo, non possiamo regalare un uomo a una squadra di questo tipo. Il rammarico che ho di oggi è questo qua, non tanto della partita, questa azione l'hanno fatta, però è una partita importante, bisogna giocarla con più intelligenza, sono stati poco intelligenti. Ok, grazie Boris, in bocca al lupo per il proseguimento delle partite, ciao.